Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo primo video su Wolverine vi spiegherò come completare la sua sfida, la quale richiede di trovare degli artigli. Sono tre gli artigli da recuperare. Il primo artiglio si trova alla foresta frignante. Quindi dovete scendere praticamente qui dove c'è il ponte di legno, alla foresta frignante. Sono tre artigli da trovare. Se li trovate ottenete la prima ricompensa di Wolverine. Quindi scendiamo qui a foresta frignante. Spero di aver messo bene il punto. Comunque è il classico ponte di legno. Non potete assolutamente sbagliarvi. Eccolo qua. Cioè non potete sbagliarvi ma io ho sbagliato ovviamente. Eccolo qui ragazzi. Non so perché attivo sempre questa mappa dei pesci. Qui, vedete, è qui dove c'è questo ponte di legno a foresta frignante. Scendete giù, sperando che non ci siano altri giocatori altrimenti sono morto. E quindi non posso mostrarvi, diciamo, i segni degli artigli di Wolverine. I segni sono praticamente in fondo. Ovviamente io sono sceso dalla parte sbagliata, come sempre del resto. Eccoli qua ragazzi, vedete? Questi sono i segni di Wolverine. Il ponte è questo a foresta frignante. Andiamo al prossimo. I secondi artigli si trovano praticamente sempre alla foresta frignante, solo che questa volta non ci troviamo sul ponte ma ci troviamo un po' più distante. Dovete praticamente raggiungere un tronco d'albero senza rami. Quindi un tronco dove Wolverine si è divertito a farsi gli artigli ed è situato all'incirca qui. Ora appena raggiungo la posizione ve la mostro con precisione. Quindi in questo modo potete facilmente individuare gli artigli. È un tronco quindi non potete sbagliarvi. Dovrebbe essere quello in fondo. È un tronco d'albero. Vediamo se è questo. Dovrebbe aggirarsi da queste parti. No. Ok, è da queste parti ragazzi. Scusate. Eccolo qua. Sono atterrato bene ma sono andato un po' troppo lontano. Questo è il tronco d'albero dove ci sono gli artigli di Wolverine. Quindi passiamo agli ultimi artigli. Gli ultimi artigli si trovano praticamente sempre alla foresta ma su questa struttura che sicuramente conoscete perfettamente. Quindi la scalate, arrivate in cima e gli artigli sono qui dove c'è il frigorifero. E la sfida di Wolverine è completata. Grazie. Grazie.